Falso cieco scoperto dalla Guardia di Finanza dal 1985 percepiva una pensione di accompagnamento. GG, le iniziali del pensionato di Sansepolcro, che da quasi 30 anni era stato dichiarato cieco assoluto e percepiva un'indenità di accompagnamento di 850 euro mensili. Peccato che invece cieco del tutto non lo fosse e a dimostrarlo ci sono le immagini della Guardia di Finanza di Arezzo che nell'ambito di un'indagine coordinata dal procuratore capo Roberto Rossi hanno scoperto la truffa colossale. Una truffa che ha affruttato al pensionato circa 200 mila euro complessivi. Appostamenti, pedinamenti, tutto filmato mentre l'uomo si recava a far compere in un supermercato della cittadina Biturgenze. L'uomo riusciva benissimo in un ambiente a lui non familiare a evitare gli ostacoli senza alcun ausilio. Riusciva persino a leggere le etichette dei prodotti sugli scaffali. Come un consumatore consapevole che si rispetti e poi le riponeva al loro posto. È stato quindi il tecnico incaricato dalla procura a confermare l'impianto accusatorio. Non era un caso di cecità assoluta ma un soggetto ipovedente. Il pensionato dovrà quindi rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato. I beni ed i conto correnti dell'uomo sono stati sequestrati per la somma di 120 mila euro.